il palo di Agar sulla traiettoria c'era Camelia ma probabilmente non l'avrebbe presa perché aveva veramente angolato bene Agar base del palo Manuela, va Manuela Giuliano Manuela Giuliano contropalte Rete siamo in vantaggio 1-0 o 4-3 come preferite spiazzata Baldi palla a destra Baldi a sinistra vediamo chi fa adesso per la Fiorentina Cinotti che è entrata proprio appositamente per calciare dagli 11 metri Norma Cinotti vai Camelia ma Cinotti l'aveva parata l'aveva quasi parata l'aveva quasi parata Camelia l'ha toccata la palla per andata sotto il set l'aveva parata l'ha toccata l'ha solo toccata Camelia peccato peccato Elena Linari anche lei rigorista come Manuela Giuliano ma Elena Linari Rete intercetta Baldi ma il tiro è fortissimo 2-1 manteniamo il vantaggio del rigore sbagliato da Agar nella prima serie Linari ha calciato fortissimo alla destra di Baldi palla molto forte praticamente come va calciato Agar solo che lei ha preso l'angolino Agar invece il palo adesso tocca nuovamente la Fiorentina terzo rigore Bocchete Bocchete contro Camelia Ceasar Bocchete rigorista una rincorsa breve va Bocchete Rete spiazza Ceasar e segna è calciato veramente bene Bocchete ha spiazzato Camelia ha messo all'angolino Sonstevold che abbiamo sentito proprio vado io per terza durante il colloquio parte Sonstevold parata di Baldi e adesso siamo pari parata di Baldi un tiro molto angolato ma Baldi è andato adesso tocca nuovamente la Fiorentina lungo 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 contro Camelia Ceasar parte lungo di Baldi è andato aspettato fino all'ultimo dove si buttasse Camelia e alla fine la spiazzata valla alla destra in Camelia Valdezzate parte Valdezzate Rete grande rigore grandissimo rigore forse secondo me il miglior rigore tirato fino adesso sotto il set spiazzando Baldi siamo 3 a 3 grande rigore adesso siamo agli ultimi due l'ultimo per la Fiorentina e l'ultimo per noi vediamo chi fa per la squadra viola Severini altra ex mamma mia ragazzi parte Severini in corsa breve tiro l'ha parato Camelia l'ha parato ricorsa breve rigore calciato malissimo forse il peggiore finora della serie sicuro di Valdezzate è stato il migliore non qui questo è stato il peggiore Troesgaard Troesgaard tutto sui suoi piedi se segna Roma vince la Coppa Italia altrimenti si va ad oltrazzo vai Sanne nooo 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 vinciamo noi vinciamo noi vinciamo noi vinciamo noi vinciamo noi